Il doppio senso deve essere ripristinato, anche per un fattore di sicurezza, perché le macchine accendere a senso unico per Pia Leonardo Marzella non rispettano i limiti di velocità e perché è in discesa e rispetto a Pia Michele Marzella è molto più breve la discesa, corrono come i pazzi. Io per uscire oggi, stasera, per venire in cui tanto, per venire alle 7 o un quarto, per uscire di fronte alla chiesa del buon pastore dove abito, esattamente un quarto d'ora, perché le macchine corrono come i pazzi, non si fermano e io non mi sento sicura, quindi è anche un problema di sicurezza. Il doppio senso sì, perché con la spending che c'è, qua ci sta la crisi e bisogna passare, però è un fatto di sicurezza, è un fatto beh, be обсistete! No, 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 no.